Die Brücke, o espressionismo tedesco, deriva dall'impressionismo e dal fovismo. È uno sguardo verso la natura, ma anche uno sguardo verso il mondo interiore. Il paesaggio è sentito oggettivamente come origine d'emozione. Fovismo. Ed anche soggettivamente come specchio dell'angoscia dell'uomo. Espressionismo. Tragico contrasto con il mondo. Introversione. L'espressionismo invade tutti i campi. Musica, teatro, romanzo, poesia, cinema. A causa della complessa espressione psicologica, sociale, speculativa, gli artisti di questa corrente sono costretti a violentare il mondo esterno, deformarne la struttura, a portare ogni forma all'esasperazione, oltre il reale. Grazie. Grazie.